Successo per la terza tappa della rassegna ambientale L'Aria che respiriamo, promossa da Hauser, Spicci GL e Feder Consumatori, che ha visto protagonista Villa Falcetti Zannini, dimora storica ubicata a Rivalta. La visita, focalizzata in particolare sul giardino della residenza e guidata dal botanico Ugo Pellini, ha riscosso grandissima partecipazione e interesse. Come è nato questo progetto? È un'idea che l'abbiamo chiamata Rassegna Ambiente 2023 e abbiamo deciso che l'aria buona che vogliamo respirare tutti e che vorremmo la troviamo solo ed esclusivamente nei parchi, soprattutto nei parchi delle vecchie ville, che sono parchi quasi sconosciuti al resto della città e abbiamo avuto un successo enorme. Anche oggi qui, che siamo a Villa Falcetti e andremo tra poco dentro a visitare il parco, abbiamo quasi 80 persone che si sono prenotate. È una cosa molto positiva che ci fa anche molto piacere e continueremo anche quest'autunno con il foliage. Il tema ambientale è il tema sul quale vogliamo tutti noi concentrarci per una serie di ragioni. Senza bisogno di andare tanto lontano sappiamo e scopriamo, grazie a queste iniziative, che il verde urbano e periurbano qualifica in maniera migliore la nostra stessa vita, nel senso che non solo gli alberi sono grandi purificatori d'aria, ma anche ci permettono di abbassare le temperature delle nostre città, che sappiamo diventare sempre più calde d'estate. È quindi un bene ed un diritto delle future generazioni che deve essere preservato e quindi conosciuto, apprezzato, tutelato e amplificato quanto più possibile. Per questo cerchiamo di promuoverne la conoscenza tra le persone che si rivolgono alle nostre associazioni e che quindi ci hanno come punto di riferimento anche per questo tipo di informazione e formazione. Stiamo ammirando un giardino stupendo, una villa bellissima. Cosa ci può dire? Questa villa ha una storia per cui è del Cinquecento, ma è stata rimodellata e riqualificata nel 1800 dal famoso architetto Marchelli. È un esemplare abbastanza significativo e unico per la nostra città di Giardino all'Italiana, dove ci sono delle siepi potate ad arte, seguendo il principio dell'Arstopiaria, che rappresenta in qualche maniera anche un modo di pensare del momento in cui è nato il Giardino all'Italiana, cioè le piante che vengono modellate a seconda del modo di pensare dell'uomo. L'iniziativa di oggi, oltre che parlare di ambiente, parlare di cultura, parla anche di socializzazione. Per noi è importantissimo questo momento di socializzazione, fatto insieme ad altre associazioni, per i nostri soci. È un momento importante di conoscenza delle realtà del nostro territorio. Si sposa bene anche con il nostro turismo sociale, che anziché rivolgersi all'esterno, su altri territori, si rivolge in questo caso anche all'interno, sui territori e le bellezze della nostra provincia. Importantissimo far uscire le persone dall'isolamento, dal chiuso che hanno dovuto subire per la pandemia e oggi rimettere in circolo le connessioni, le relazioni sociali, favorisce molto il benessere anche fisico e mentale delle persone. Grazie. Grazie.